...e questo non è il cordone. E poi dove? Fai lì. E si trova in Italia. Vieni il cordone. Il stamm si n'è il pò, il tà capi, il si è il pò. Il sà, il rò, il piede, 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 il piede. ¿Le non, solo manco, in signorino, stare bene con il don, molto bene dei ragionari, Dalla magia che io ho, che già come per me, sto pensando a te, come se questo testo non fosse passato mai, dove siamo stati, cosa siamo poi, confinati di come solo ognuno sa, dietro gli altri peccati e loro domini suoi, sto pensando a te, sto pensando a te, sto pensando a te, sto pensando a te, sto pensando a te. Sono cose della vita, ma lo penso così, se da quanto devi fare la vita, arrivare fino a qui, Sì, vieni, già come per me, io sto ancora in pieno, perché? Sono mani, tutti sono di me, con le mani io le prenderei, sì, sono mani, tutti sono di me, con le mani io le prenderei. Sì, vieni, vieni, vieni.